È di 40 miliardi il fatturato annuo riconducibile alle attività delle mafie, una cifra enorme che viene rimessa anche nelle attività legali. Sono tantissime le persone che hanno sacrificato la propria vita per combattere contro le mafie. Ci domandiamo oggi in che modo le istituzioni e la Chiesa possono vincere le mafie. Ne parleremo domenica su Rai 3, sulla via di Damasco, insieme al professor Fabio Iade Luca, criminologo, sociologo e accademico pontificio. Che cosa può fare la Chiesa? Tanto perché la Chiesa nelle periferie è un punto di riferimento. La Chiesa, e qui dobbiamo fare una nota per quanto riguarda Papa Francesco, ricordiamoci sempre che durante la pandemia, quando c'erano migliaia di morti, lui ha lanciato l'allarme delle mafie. State attenti, abbiamo bisogno di una prevenzione perché le mafie sono sempre più potenti. sono sempre all'avanguardia, non lasciano mai nulla al caso.